Grazie a tutti. Grazie a tutti. Spero di non sbagliare a dire queste cose, poi dopo sapete tutti com'è andata, abbiamo perso la partita, c'è da accettare il risultato, non si può fare altrimenti e complimenti a loro che vanno avanti e noi no. Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'arbitro voleva portarla a tutti i costi e ai tempi supplementari. In maniera scientifica ha firmato un fallo di confusione perché aveva sicuramente visto che Matos stava sulla palla e stava calciando. La mia impressione è stata questa, che un arbitro che non si è voluto prendere la responsabilità che la partita era finita lì, invece l'ha portata ai supplementari. Ma non sicuramente per favorire Brescia perché comunque è così, per me è un arbitraggio da quattro, ma lo dico senza nessun tipo di problema. Perché chi ha visto la partita non può dire altrimenti, lo stesso rigore, scientificamente il VAR contro di noi viene utilizzato, quando poi deve essere utilizzato per noi come cittadella c'è qualcuno che dice che non ce n'è bisogno. Qui si capisce ben poco questo VAR, guardate sinceramente, adesso al di là del Brescia, che comunque non è che c'entra qualcosa il Brescia, qui al limite c'entra l'incompetenza dell'arbitro, nessuno ha niente contro il Brescia. Anzi, merita loro che poi comunque c'è da dire pure che ai tempi supplementari sono stati bravi a ribaltarla, che non era comunque semplice perché non dimentichiamoci che alla fine, al di là di tutti questi episodi sfavorevoli eravamo riusciti ad andare in vantaggio, quindi magari se riuscivamo a portare l'attenzione avanti per altri 7-8 minuti, stavamo parlando di tutte altre cose, io sicuramente non stavo qui a parlare dell'arbitro. Poi dopo è chiaro che il risultato enfatizza tutti gli episodi contro che ci hanno girato. Ma al di là di questo, io voglio ringraziare la mia squadra, perché sono stati veramente dei ragazzi straordinari, insieme all'allenatore, al mister Albini e ai miei direttori, perché hanno fatto una stagione, secondo me, importantissima. Presidente, la città si è stretta intorno alla squadra, questi mille tifosi non hanno mai smesso di incitarla e l'hanno applaudita anche alla fine. Credo che i tifosi siano in questo momento sinceri, ecco perché l'hanno fatto, perché gli applausi e le congratulazioni credo che non si facciano quando non si sentono, anzi, magari quando si sente altro si prendono anche le contestazioni, quindi se è stato fatto è perché sicuramente questo è stato un gruppo che lo ha meritato. Mi dispiace tantissimo, mi dispiace per la gente che è venuta a Brescia, che era tanta, mi dispiace per tutta la città che comunque abbiamo vissuto una settimana bellissima, ho visto quello che ho visto nel 2013, nel 2014, lo avevo rivissuto in queste giornate perché tutti eravamo convinti che questa squadra avrebbe dato tutto. Così è stato e purtroppo dopo il risultato non ci ha premiato e onore al mio gruppo. Ma che cosa riparte? Marco, riparte dalle solite cose, siamo ripartiti dopo la retrocessione, vuoi che non ripartiamo dopo i play-off? Si riparte, si riparte con le riunioni, si riparte con il budget, si riparte con le solite cose, Marco. Il calcio va avanti, andremo ad affrontare il dodicesimo campionato della mia gestione. Che ti dico Marco, adesso sicuramente ci vorranno dieci giorni per smaltire un po' la delusione e poi dopo come al solito si riparte, perché al di là di tutto il Perugia c'è, è stabile, è una società importante, forte e spero che un giorno prima o poi ci venga anche riconosciuto. Presidente, è più forte la delusione o più grande l'orgoglio? Ma è più forte la delusione, Marco, perché con l'orgoglio te lo metti in tasca e te ne vai a casa eliminato, quindi credo che al di là di tutto è sempre, almeno adesso, in questo momento è forte la delusione, molto di più dell'orgoglio, però ripeto, sono venuto qui soprattutto per questo, per ringraziare la mia squadra, perché comunque siamo usciti a testa alta, anzi altissima, e qualche di un altro invece secondo me deve uscire a testa bassa. Faccio una domanda in chiave Bresciana, non conosciuti l'anno scorso, non so se si ricordassero prima della partita, mi aveva detto che comunque consentirò a un buonissimo ricordo, no? Lo confermo, no, no, ho mai sentito, ma Massimo è una persona talmente scaramantica che ero strasicuro che non avrebbe mai chiamato, forse poi mi chiama stanotte verso le due per prendermi in giro, dai, perché è il suo classico, dai, anzi complimenti Massimo, non so quanto lo abbia meritato più di me, però sei andato avanti tu, quindi applausi. Presidente, questo è l'obiettivo, è sempre stata una serie A, anche nell'anno di C, ci sono colleghi suoi che quando c'è una discesa cercano di rendere tutti i costi, ma invece non ci ha mai pensato neanche di un attimo forte della sua azienda, di quei macro importanti, per rendere i costi. Quando sono retrocesso, poi tra le altre cose nel periodo del Covid ho visto, no, nero, tutto di più, più che nero ho visto, però dopo per vendere bisogna che ci siano gli acquirenti, quindi oltre capito a questo è chiaro che poi subentra anche l'orgoglio, no? L'orgoglio di rimediare a quello che avevo fatto, perché comunque al di là di tutto sono il massimo esponente del Perugia, quindi quando si retrocede le colpe più grandi ce le ho avuto io, come quando poi abbiamo vinto i campionati, che magari qualche merito è pure stato mio, ma ripeto, tra le altre cose poi non ci ho manco mai pensato un attimo, ho sempre pensato, anzi, prima ho detto 10 giorni si riparte, l'anno della retrocessione sono ripartito dopo un'ora, perché in 7 giorni abbiamo ricostruito tutta la società nuova, quindi, però, signori, il Perugia è una piazza importante, io spero che prima o poi si avvicini qualcuno di molto importante, perché merita un presidente molto importante il Perugia, se devo fare a scambio di figurine resta santo padre, ecco, questo è il senso, insomma, ecco, però è chiaro che io sento parlare di qua, di fondi, di fondini, di fondoni, speriamo che ci stia sto fondone pure per noi, noi stiamo qui. Salve e buonasera a tutti.